La Cacceresti Ma che devo fare perché lei se ne vada? Chiamare il portiere, i vicini, la polizia Mi chiede fare Tanto scommetto che se mi nascondo non mi trova nessuno La inviteresti a cena? Cin 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 Oppure potresti pensare di... Venire addirittura ad abitare da me mi sembra un po' eccessivo Hai ragione E anche un po' indedicato a dir la verità Ti chiedo scusa A questo punto perché non sposarsi? Perché no? Allora che cosa è questo libro? La scelta Allora cos'è? Un diario? Una agenda? Al limite forse Un catalogo Marianna De Pinto Jacopo Venturiero Fino al 24 aprile al Teatro Brancaccino Il catalogo di Jean-Claude Carriere Non mi troverà perché mi nasconderà Non c'è posto per nascondersi qui